Più di 10.000 volontari saranno protagonisti nel prossimo fine settimana per ripulire dai rifiuti oltre 100 aree della provincia di Salerno, nell'ambito della 26esima edizione di Puliamo il Mondo, campagna di volontariato ambientale organizzata da Lega Ambiente in collaborazione con RAI che si svolgerà il 28, 29 e 30 settembre. Si parte venerdì 28 con la pulizia della Foce Sele, promossa dalla riserva Foce Sele Tanagro con la collaborazione dei ragazzi dei centri di accoglienza del territorio. Sabato 29 settembre tappa nell'area archeologica di Pestumo con il Circolo Cittadino che da anni si occupa della manutenzione e dell'organizzazione delle passeggiate nel sentiero degli Argonauti insieme ai migranti ospiti sul territorio. All'evento parteciperà il direttore del Parco archeologico. I volontari di Lega Ambiente inoltre saranno in azione sulla strada provinciale 417, meglio conosciuta come Aversana, che attraversa le campagne di Ponte Cagnano, Battipaglia e Deboli. Le aziende del posto saranno impegnate non solo nella pulizia ma anche e soprattutto nell'adozione di una strada. A ciascuna di queste aziende infatti è stato chiesto l'impegno di mantenere il decoro sia delle rotatorie che delle piazzole di sosta, rimuovendo i rifiuti e piantumando fiori ed alberi.